Ad oggi, domenica 10 marzo, NVIDIA è la terza azienda più grande al mondo. Valutazione che supera i 2 triliardi di dollari, quando questo scenario sembrava lontanissimo mesi fa. Chiaramente la loro valutazione è stata sparata nell'iperspazio da tutto questo hype intorno all'intelligenza artificiale degli ultimi mesi, ma la loro storia parte da lontano, parte dal 1993 e ha tantissime cose da cui possiamo imparare e che ci fanno sognare. Quindi nel video di oggi vi racconto come NVIDIA è andata da 0 a 1000. Questa è la serie in cui andiamo a vedere insieme come aziende che stanno segnando la storia, che hanno fatto la storia, sono passate dall'avere 0 clienti, 0 utenti, ad averne 1000. Poi ovviamente ci sarebbe tanto altro da dire su NVIDIA, sicuramente parleremo anche di quello che è il futuro, e chi lo sa, magari nei prossimi mesi arriverà anche un video in cui più nel dettaglio andremo a vedere come sono passati da 1000 a 2 triliardi di valutazione. Io spero questo video vi piaccia, mettetevi comodi e questa è la storia di come NVIDIA è arrivata da 0 a 1000. Questa storia parte con una convinzione, la convinzione che un giorno il PC sarebbe divenuto un dispositivo di consumo per la fruizione di videogame e altri media. Come vi anticipavo siamo nel 1993, ci sono circa 26 società indipendenti che producono chip grafici, in tre anni questo numero arriva a oltre 70, al giorno d'oggi praticamente l'unica sopravvissuta è NVIDIA. NVIDIA nasce come azienda senza fabbrica che progetta appunto questi chip di accelerazione grafica per computer. Alla base, al fondamento del suo successo c'è un'intuizione, o forse due. La prima riguarda la crescita della grafica 3D nei videogiochi. Capiscono i fondatori che è un mercato che sta esplodendo e dove c'era tantissimo potenziale. La seconda intuizione, forse quella più rara, speciale all'epoca, è che quello che fino allora era stato utilizzato per processare tutti questi dati necessari per utilizzare i videogiochi, cioè la CPU, forse non era il mezzo più efficiente per farlo. E quindi da questa intuizione, da questa idea, nel 1999 nascono le prime schede grafiche, le ormai iconiche NVIDIA GeForce. Poi si potrà dibattere su quella che effettivamente è stata la prima scheda grafica, però per rendere questa narrazione più carina, più colorita, concedetemi di troncare in questo modo tutte le discussioni che si potrebbero fare sul tema. Geograficamente ci troviamo ovviamente in Silicon Valley. Si parla di semiconduttori, si parla di startup, non possiamo che passare da qui. Siccome siamo in Silicon Valley, siccome parliamo di startup, non possiamo che non parlare anche di Sequoia Capital. Anche in questa storia rientra quello che è il fondo di investimento più iconico, oserei dire anche più importante di sempre. Per chi fosse interessato a saperne di più, c'è un video su questo canale chiamato L'azienda dietro i social media, o una cosa del genere, un po' clickbait, ma secondo me è il video che fa capire non solo l'importanza del meccanismo VC nell'internet moderno, ma in particolare proprio l'importanza di Sequoia Capital, il suo approccio e Don Valentine. Don Valentine che rientra in questa storia, Jensen, il CEO di NVIDIA, Jensen Wang, riceve una intro dal suo allora capo appunto a Don Valentine, pezzo della nomata appunto di Sequoia Capital, e grazie a questa chiacchierata, sotto anche una famosa minaccia di essere ucciso nel caso in cui avesse dovuto perdere i soldi, Jensen riesce a ricevere il suo primo investimento di 2 milioni di dollari. Quindi i nostri amici e compagnieri si ritrovano con 2 milioni di dollari, 6 milioni di dollari di valutazione, ma ancora nessun nome. Chi ha fatto startup sa che trovare il nome è sempre un momento delicato, che prende tantissimo tempo e c'è anche tanta frustrazione, perché sembra essere da una parte la cosa più importante del mondo, dall'altro qualcosa che ti distrae dal portare avanti il prodotto. E in questo caso, come spesso accade, l'arrivo del nome è stato anche abbastanza casuale. Tutti quanti i nomi dei file, almeno così racconta la leggenda, che erano stati creati per portare avanti questa idea, utilizzavano l'acronimo NV, un po' come fosse New Version, e così i fondatori cominciarono a pensare a parole che iniziavano con quelle lettere. Quindi nonostante un inizio senza nome, nasce poi ufficialmente NVIDIA. NVIDIA viene fondata nel 1993 e il tempismo è ottimo, perché l'interesse per le schede grafiche decolla proprio in quell'anno, con l'uscita di un videogioco in 3D chiamato Doom, che gli appassionati sicuramente riconosceranno. Doom è un gioco che ha, diciamo, rivoluzionato il mondo del gaming su computer. A Doom è poi succeduto Quake e tutta una serie di altri giochi che hanno continuato a mettere benzina su questo fuoco di necessità per schede grafiche. Un fuoco quasi letterale, perché i computer facevano fatica a processare effettivamente questi giochi, a starci dietro. Poi erano giochi estremamente frenetici, dove perdere dei frame durante le sessioni di gioco era estremamente frustrante per dei videogiocatori che volevano in tutti i modi vincere le loro partite o comunque andare avanti. Ed è qui che la necessità per le schede grafiche diventa evidente. A questo punto entra in gioco anche uno dei primi antagonisti della storia, se vogliamo, 3DFX, un'altra azienda, che lancia sul mercato queste schede video chiamate Voodoo, credo che questa sia la pronuncia corretta, con prezzi molto contenuti in realtà, più o meno si stima che il costo fosse intorno ai 200 dollari, ma che avevano un problema. Offrivano solamente l'accelerazione 3D e non quella 2D. Quindi, quando stavi giocando a Doom o giochi similari, sembrava un'ottima offerta, ma poi in realtà dovevi comprare una scheda separata per tutti gli altri task che volevi fare sul tuo computer. In un momento in cui sembrava quindi che 3DFX potesse diventare leader del mercato, Jensen è riuscito a stringere tre collaborazioni cruciali che hanno dato a NVIDIA un po' di respiro. La prima collaborazione nel 1994 con SGS fondamentalmente permette la produzione dei chip, quindi NVIDIA si sarebbe occupata della progettazione, SGX è proprio della produzione, produzione che come sappiamo ancora oggi è problematica per qualsiasi cosa abbia a che fare con il silicio. La seconda collaborazione è stata con Diamond Multimedia, che ha acquistato i chip di NVIDIA per il loro business e quindi chiaramente ha dato un primo influsso di denaro. La terza collaborazione è stata con Sega, che all'epoca era forse l'azienda più popolare di videogiochi al mondo e che voleva portare i propri videogiochi su PC, quindi NVIDIA fondamentalmente è riuscita a diventare il loro partner e così nel maggio 1995 lancia il suo primo prodotto, NV1, una scheda multimediale con grafica, audio e che si connetteva anche a un pad della Sega, però nonostante questo impegno il risultato è stato un flop. Un flop rispetto alle previsioni ma non un totale fallimento, visto che comunque sono riusciti a ottenere altri 6 milioni di dollari circa da investitori, specie se pensiamo al fatto che in contemporanea anche Microsoft cercò di produrre le proprie schede 3D ma fallì. Così il mercato sembrava ancora acerbo e NVIDIA di nuovo ha delle intuizioni importanti. La prima è quella di puntare su Microsoft come sistema di riferimento, magari in contrasto a quello che sarebbe potuto essere il sistema Apple. Ha puntato sull'integrazione verticale e nel 1997 si concretizza un nuovo lancio, Riva 128. Durante questo lancio NVIDIA aveva, come vogliono tutte le storie di imprenditori americani, pochissime settimane di liquidità in banca, dopo due mesi praticamente non avrebbe potuto più pagare gli stipendi, ma il prodotto è un discreto successo. Ci sono buone vendite ancora anche grazie a Diamond Multimedia, ma NVIDIA si rende conto di aver bisogno di maggiore rapidità e di più partner per la produzione. Quindi si aggiunge al roster di aziende partner da questo punto di vista TSMC, che molti di voi forse oggi avranno sentito nominare, soprattutto quando si parla di Taiwan, la più grande azienda quando si parla di produzione di chip che coinvolgano semiconduttori. E NVIDIA, anche grazie a questa partnership, comincia a progettare a una rapidità molto maggiore nuovi chip e soprattutto riesce a stare dietro alla produzione di questi chip. All'inizio degli anni 2000 lo spazio delle schede grafiche comincia a consolidarsi, quindi si passa da una trentina di aziende a tre. Le due più famose sono NVIDIA e ETI. ETI che forse avrete sentito nominare perché poi nel 2006, per 5.6 miliardi di dollari, è stata acquistata da AMD, che ancora ad oggi possiamo considerare forse il più grande competitor di NVIDIA, la Tosca dei Video. Quando il mercato della produzione di schede video comincia a consolidarsi e diventa magari anche più difficile differenziarsi dagli altri sulla produzione di chip, NVIDIA ha ancora una volta un'ottima intuizione. Capisce che per continuare ad avere un prodotto migliore, per continuare ad espandersi, si deve ragionare non solo sulla parte pratica, sulla parte fisica, ma anche sulla parte driver. Quella parte potremmo chiamarla software, sperando che tutti quanti i vari software engineer non mi uccidano, che fondamentalmente permette alle GPU di performare in maniera migliore per via di ottimizzazioni che vengono fatte all'interno del computer, nel modo in cui la GPU si interfaccia con le varie applicazioni. Non si parla più solo di videogiochi, si parla di operazioni nell'ambito della grafica, elaborazione parallela. Escono le GeForce 8, 9, 200, cominciano a sfruttare la tecnologia delle GPU per elaborazioni scientifiche. Proprio in quegli anni Nvidia sviluppa anche la tecnologia CUDA, che grazie a tutta una serie di sviluppatori che ci si sono, diciamo, attaccati, ancora oggi costituisce un valore immenso per Nvidia, che soprattutto è difficilmente copiabile dai propri competitor. Da tutta questa storia potrete capire che in realtà non è facile capire quando Nvidia ha raggiunto le mille schede vendute, no? Da una parte i primi 2 milioni da Sequoia Capital, poi in realtà anche altri 18 più o meno che sono entrati successivamente. C'è stata anche una initial public offer per Nvidia nel 1999, quindi sicuramente un'azienda che, non da subito, però considerata l'industria, considerato il tempo, è riuscita abbastanza rapidamente a trovare una nicchia di mercato. Ma il punto che mi piace pensare come il raggiungimento di questo obiettivo dei mille utenti è avvenuto con il lancio di MV1, che come dicevamo è stato un po' un flop per l'azienda, ma se dovessi individuare un punto per dire quello che secondo me è stato da 0 a 1000, anche se vogliamo da un punto di vista metaforico, è il lancio di NV1 o MV1. Non solo questo momento è identificato come un momento cardine dallo stesso CEO di Nvidia in un podcast che vi consiglio di sentire chiamato Nvidia, an overnight success, 30 years in the making. Quindi un successo dalla notte al giorno in preparazione da 30 anni, titolo abbastanza esplicativo di quello di cui si andrà a parlare. Ma un aneddoto divertente che lui aggiunge a questa conversazione è che, proprio dopo il lancio di NV1, che non vendette bene da un punto di vista retail, l'azienda Diamond Multimedia, che aveva acquistato 250.000 di queste schede video, decise di farle tornare indietro, decise di non volerle più e praticamente, dice Jensen, delle 250.000 unità che furono mandate fuori, ne rientrarono 249.000. E quindi per me queste sono le mille schede grafiche, le mille vendite, che chiudono questo ciclo che volevo raccontarvi in questo video per introdurvi alla storia di Nvidia. Leggendo lo script di questo video, per cui ringrazio Alessio, che mi ha aiutato a mettere insieme tutte quante le informazioni e presentarvele oggi, mi sono reso conto che c'è tantissimo altro da dire, specie ad oggi, in cui appunto Nvidia è diventata la terza azienda per capitalizzazione nel mondo. Quindi, fossi un bravo youtuber, vi direi, se volete sapere il seguito di questa storia, come va a finire, se volete saperne di più, mettete mi piace, ma la verità è che è un tema talmente interessante, talmente bello, che ne parlerò a prescindere, quindi potete aspettarvi magari nei prossimi mesi un follow up a questa storia. Io spero che queste informazioni sulla nascita di Nvidia vi siano piaciute. Un altro podcast che vi raccomando e che vi raccomando sempre è Acquired. In Acquired c'è un'intervista al CEO di Nvidia che è molto interessante, in cui vi parla anche del suo percorso imprenditoriale, di come non lo rifarebbe, dovresti tornare indietro, quindi ve lo consiglio caldamente. Come al solito vi ringrazio per avermi seguito fin qui, fate le solite cose che gli youtuber vi chiedono di fare, quindi non solo il mi piace, ma anche l'iscrizione, la campanella, eccetera, eccetera. E noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao! Grazie.